A distanza di più di un anno dalla precedente seduta straordinaria che aveva ad oggetto gli interventi per l'edilizia scolastica e l'abbattimento delle barriere architettoniche, torniamo a parlare di edilizia scolastica e, in aggiunta, delle misure da adottare per l'apertura del nuovo anno scolastico a fronte dell'emergenza coronavirus. Poiché alle gravi criticità dello Stato in cui verse il nostro patrimonio di edilizia scolastica si è aggiunta anche la minaccia dell'emergenza sanitaria che stiamo vivendo. Siamo quindi chiamati a discutere e verificare non solo lo stato dei lavori delle misure assunte nella precedente seduta straordinaria secondo gli impegni presi negli ODG approvati allora, ma anche a individuare nuove modalità di accesso e fruizione dei servizi scolastici per garantire una ripresa sicura del ciclo di studi da un pericolo ancora purtroppo niente affatto scongiurato. Potete quindi immaginare la materia molto delicata che ci troviamo a trattare oggi, osservando anche che il combinato disposto di queste due emergenze, cioè le criticità strutturali degli edifici scolastici e le misure sanitarie per contrastare un virus invisibile ancora non sconfitto, possano rappresentare una vera bomba, un serio pericolo per la sicurezza dei nostri ragazzi. Ritengo molto significativo che una regione dedichi al tema dell'edilizia scolastica ben due sedute straordinarie nell'arco di poco più di un anno. Non stiamo qui a ricordarvi i numeri e i dati emersi dal dibattito precedente e solo attenendoci al report Censys 2018, che purtroppo è l'ultimo ancora disponibile, il Lazio risulta essere la prima regione in Italia per scuole non conformi alla normativa, con oltre il 70% degli istituti scolastici privi dei certificati di agibilità e di prevenzione incendi. La ragione principale di questo ritardo non è imputabile, come vedremo, a carenze di norme o di risorse, ma ad un disinteresse politico e questo è molto grave se consideriamo che in Italia, secondo i dati di cittadinanza attiva, ogni quattro giorni crolla una scuola e per questo perché tre scuole su quattro sono senza agibilità statica e solo una su venti in grado di resistere a un terremoto. A questa emergenza se ne è aggiunta un'altra, ma che ci fa capire che se non sappiamo prevenire fenomeni non c'è mai fine al peggio, che a problemi se ne sommano altri e il cielo non voglia che qualche altra cosa dovesse capitarci. Insomma, si tratta di un circolo vizioso in cui diventa sempre più difficile uscire e questo spiega perché come gruppo consigliare abbiamo insistito nel richiedere a distanza appunto un anno una nuova seduta straordinaria su questo tema, legandola chiaramente all'attualità delle misure ad adottare per l'apertura dell'anno scolastico. Io sono felice che questa richiesta sia stata poi sottoscritta da praticamente esponenti della maggioranza e delle altre opposizioni. Qualcuno potrebbe obiettare che in Regione ci sono, soprattutto in questo momento, altre priorità e che molti settori sono meritevoli comunque di altrettanta attenzione. È vero, anche se non va trascurata una non piccola differenza. I soggetti pubblici e privati hanno i loro sindacati, le loro associazioni di categoria, spesso noi ci troviamo ad interagire con loro. Il mondo degli adulti ha modi e strumenti per arrivare a noi. Questo non possiamo dirlo per i migliori, per i nostri figli. Della loro sicurezza, della loro salute, della loro educazione abbiamo il dovere di essere noi ad occuparci di loro, di essere noi ad attivarci per garantire loro ambienti di studio e di socialità sicuri e confortevoli. Perché stiamo parlando di bambini, adolescenti, ragazzi che non hanno capacità di rappresentanza e che in parte sono ignari e impotenti di quanto succede al loro intorno. Stiamo parlando dei nostri figli che rappresentano quanto di più prezioso di noi ognuno possa avere e della loro salute, la loro sicurezza e la loro educazione che devono rappresentare per noi una priorità assoluta. Per questo, insisto, non abbiamo esitato un secondo a chiedere a distanza di un anno una seconda seduta straordinaria per fare il punto sulle attività di monitoraggio, sui controlli e sugli investimenti della nostra edilizia scolastica affinché in tempi brevi si possa adeguare a un patrimonio datato, spesso inagibile e pericoloso e per capire quali misure regionali adottare per l'apertura in tutta sicurezza di questo nuovo anno scolastico che ci aspetta, anche viste le peculiarità appunto dettate dall'emergenza coronavirus. Giusto per ricordare, la volta scorsa vi posi queste domande. La Regione ha effettivamente il monitoraggio completo della situazione? Avete la situazione sotto controllo quantomeno come dati? Avete valutato l'utilizzo dei soldi che sono già stanziati? Sono stati utilizzati? Non sono stati utilizzati? Qual è il motivo per il quale eventualmente non sono stati utilizzati? Avete verificato la congruità dello stanziamento di soldi che è stato fatto in questi anni? Avete verificato il loro effettivo impiego sul territorio a tutela dei nostri bambini e dei nostri ragazzi? A queste domande che io ho posto la volta precedente e a cui spero che mi possa dare una risposta oggi l'assessore Alessandri, aggiungerei in questo anno vi sono stati dei progressi in medio dagli interventi di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico degli immobili del nostro patrimonio edilizia scolastica, così come da impegni assunti nel precedente Consiglio straordinario? Come intendete procedere per garantire la ripresa in sicurezza del prossimo anno scolastico a seguito di questa grave e inaspettata emergenza sanitaria? E qui è una domanda che si pone in parte sulle spalle dell'assessore Alessandri, in parte sulle spalle dell'assessore di Berardino. Speriamo che le risposte che ci vengano date nei loro interventi siano più soddisfacenti di quelle della volta scorsa. Vorrei fare un focus sull'edilizia scolastica, partiamo da lì. Come ho detto la Regione ha accumulato un ritardo ingiustificabile, siamo i primi in Italia, triste e primato, per scuole non conformi e pericolose. Capiamo perfettamente la complessità della materia dovuta anche ai diversi livelli di competenza, trattiamo infatti di legislazione concorrente dove si intersecano più materie quali il Governo del territorio, l'energia, la protezione civile, tutte rientranti appunto nella competenza concorrente, come più volte ribadito anche dalla Corte Costituzionale. Oltre al rapporto tra Stato e Regioni, questa materia investe in prima linea direttamente gli enti locali, a cui competa la realizzazione, la fornitura e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici per le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria, i comuni, per gli istituti di istruzione secondaria e di secondo grado, le province. E comprendiamo come le Regioni spesso rappresentino un tramite tra lo Stato e gli enti locali, ma tutto si può dire tranne che adesso manchino gli strumenti di governance e di conoscenza dello Stato del patrimonio edilizio scolastico o le dotazioni finanziarie. E questa ha maggior ragione da quando al Governo del Paese Movimento 5 Stelle che ha fatto dell'edilizia scolastica una sua priorità. Abbiamo un insieme di misure, la programmazione unica triennale nazionale degli interventi di edilizia scolastica, ricordando che lo Stato ha dovuto accentrare le funzioni di programmazione a partire dal triennio 15-17 dopo aver constatato il fallimento dei piani triennali regionali di edilizia scolastica. Abbiamo l'anagrafe dell'edilizia scolastica e in base ai dati presentati nell'anagrafe alla data del 30 marzo 2020, in Italia c'è un patrimonio edilizio scolastico composto da 40.160 edifici attivi che fanno capo agli enti locali. 23.334, più del 50%, sono edifici costruiti prima del 1976. Il certificato di collaudo statico, che è obbligatorio per edifici in cemento armato, è posseduto da 21.591 edifici, quindi un po' meno della metà. Il certificato di prevenzione incendi da 9.000 su 40.000, quindi un quinto. Quello di agibilità da 15.000 e il piano di emergenza è posseduto da 31.000 edifici. Gli edifici attivi progettati o successivamente adeguati alla norma tecnica antisismica sono 5.117, ribadisco, su 40.160. Questo è stato possibile riscontrarlo grazie all'anagrafe dell'edilizia scolastica. Poi abbiamo l'osservatorio per l'edilizia scolastica, istituito presso il MIUR, addirittura da una legge del 1996, con compito di edilizia e di programmazione, ma solo con l'accordo quadro raggiunto in sede di conferenza unificata il 6 settembre 2018, grazie al Movimento 5 Stelle, si è riconosciuta la struttura tecnica dell'osservatorio, il coordinamento e il monitoraggio delle azioni di implementazione delle misure in materia di edilizia scolastica e di trasparenza e friubilità dei dati contenuti nell'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica, dal 1996 al 2018. Poi c'è la task force edilizia scolastica, istituita nel 2014 presso l'Agenzia per la coesione territoriale, tra l'altro l'occasione ci è avvenuta proprio dal report annuale dell'Agenzia per la coesione territoriale, che ha il compito di accelerare l'attuazione degli interventi e garantire il pieno utilizzo delle risorse messe in campo proprio per questo. Gli strumenti di governance e di conoscenza dello stato del nostro patrimonio edilizio, quindi ce li abbiamo. E allora la domanda sorge spontanea, diceva qualcuno, se questo ritardo non sia imputabile la mancanza di risorse finanziarie. No, neanche questo è vero, perché abbiamo il Fondo Unico per l'edilizia scolastica che finanzia i sopraricordati piani triennali, dove confluiscono tutte le risorse scritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica. Poi viene il Fondo Asilinito e Squadre dell'Infanzia dell'ultima legge di bilancio 2020, con una dotazione di 100 milioni di anni dal 2021 al 2023 e di 200 milioni di anni dal 2024 al 2024, una volta tanto, insomma, si programma con uno sguardo lungo. Il Fondo è destinato a finanziare interventi relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza, riqualificazione, ristrutturazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati a scuole dell'infanzia, con priorità per quelli localizzati nelle aree svantaggiate del Paese o nelle periferie urbane. Poi abbiamo il Fondo Infrastrutture. della legge di bilancio 2017 per il finanziamento di investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese che ha inserito fra le sue finalità anche gli interventi di edilizia pubblica, compresa quella scolastica e di prevenzione del rischio sismico. Sono altri 64 milioni per il 17, 118 milioni per il 18, 80 per il 19 e 44 per il 20 che il MIU rassegna alle province e alle città metropolitane. Poi si esistono i fondi di investimento delle amministrazioni centrali dello Stato, sempre dedicati all'edilizia scolastica. La norma sui mutui per l'edilizia scolastica che autorizza le regioni a stipulare i mutui triennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato al fine di favorire interventi straordinari, quindi anche interventi non rientranti nei piani triennali, straordinari di ristrutturazione e miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica, adibiti all'istruzione scolastica, all'asta formazione artistica, musicale e coreutica e di immobili adibiti ad alloggio e residenze per studenti universitari. Altro dovremmo dire delle risorse del Fondo per gli interventi straordinari della Presidenza del Consiglio, specificatamente destinate a interventi di delegamento strutturale antisismico delle scuole, nonché alla costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti laddove indispensabile a sostituire quelli a rischio sismico. E una parola la voglio spendere per l'otto per mille dell'IRPEF, perché siamo stati noi, col decreto legge 124 2019, all'articolo 46 bis, a modificare la disciplina per il riparto in modo da destinarlo agli interventi perequativi in materia di edilizia scolastica, al fine di ridurre i divari territoriali e di perseguire un'equa distribuzione territoriale per gli interventi straordinari relativi alla ristrutturazione, al miglioramento, alla messa in sicurezza, all'adeguamento antisismico, all'incremento dell'efficienza energetica degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica, norma che è stata ulteriormente potenziata negli ultimi provvedimenti legati anche all'attività del Codio. Allora è un problema di burocrazia, diremo. La governance, cioè la cornice normativa esiste, gli strumenti esistono, i soldi ci sono e allora perché questi immobili non vengono ristrutturati? Non venivano ristrutturati prima e adesso vedremo che cosa ci dirà gli assessori, che cosa si sta mettendo in campo adesso, soprattutto in un tempo, in un arco temporale così ristretto, così ristretto perché siamo oggi praticamente a luglio e a metà settembre o poco più o intorno a quella data i nostri ragazzi, i nostri bambini dovranno tornare a scuola. La legge di bilancio 2020, ovvero quella fatta dall'attuale Governo, per accelerare la progettazione di edifici scolastici per il periodo 2023, ha disposto che gli incarichi di progettazione siano affidati secondo le procedure di affidamento dirette previste dal Codice degli Appalti Pubblici, fino alle soglie comunitarie previste per le forniture e i servizi. Inoltre i pareri, i vissi e nulla ossa relativi agli interventi di edilizia scolastica sono resi dalle amministrazioni competenti entro 30 giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza dei servizi. Dei corsi, in tali termini, gli stessi si intendono acquisiti con esito positivo. Poi è subentrato il Covid e, come ho detto in apertura del mio intervento, la situazione è diventata veramente esplosiva. Per questo i lavori di adeguamento strutturale dei nostri istituti scolastici si rendono ancora più urgenti e necessari e il Governo, infatti, non si è fatto cogliere preparato, attivandosi immediatamente con il Decreto Legge 22-2020. Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato che ha disposto che fino al 31 dicembre 2020, al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane operano con i poteri dei commissari straordinari previsti per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari. E nel Decreto Legge 34-2020, il cosiddetto Decreto Rilancio in fase di conversione di legge, ha disposto che per accelerare l'esecuzione degli interventi di edilizia durante la fase di sospensione delle attività didattiche a seguito dell'emergenza Covid-19, per tutti gli atti e i decreti relativi a procedure per l'assegnazione delle risorse in materia di edilizia scolastica, i concerti e i pareri dell'amministrazione centrale coinvolti sono acquisiti entro dieci giorni dalla richiesta formale. Inoltre, al fine di semplificare le procedure di pagamento per interventi di edilizia scolastica, sempre durante la fase Covid, lo Stato ha autorizzato agli enti locali per tutta la durata dell'emergenza a procedere al pagamento degli stati e all'avanzamento dei lavori anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell'ambito dei contratti di appalto. Insomma, io mi sono dilungata molto su questa parte per far comprendere come l'amministrazione regionale abbia tutti gli strumenti, sia normativi che finanziari, per operare un forte e radicale rilancio dell'edilizia scolastica nella nostra regione. Adesso parliamo del prossimo anno, del 2021. La giornata di oggi verte anche su queste misure da adottare per l'apertura del nuovo anno scolastico a fronte dell'emergenza coronavirus. Come è noto a tutti, lo scorso 26 giugno è stato pubblicato il piano scuola 2021 del Ministero dell'Istruzione, ovvero le linee guide per la ripresa dell'attività scolastica a settembre. Ricordo che proprio per prendere visione di questo piano, tra l'altro, abbiamo anche posticipato la data di questo Consiglio straordinario in modo che potessimo arrivare in quest'Aula con una, diciamo, panoramica esaustiva della situazione che ci accengiamo ad affrontare. Mi preme sottolineare come le Regioni hanno svolto un ruolo determinante nella definizione di queste linee guide affinché rispondessero il più possibile alle esigenze dei docenti, degli studenti, dei dirigenti scolastici e degli enti locali. E lo stesso Presidente della Conferenza delle Regioni e Provincia Autonoma, Stefano Bonaccini, ha pubblicamente ringraziato il Governo per la totale apertura e disponibilità al confronto a dimostrazione che per i nostri giovani non c'è divisione politica che tenga. Possiamo quindi di essere veramente usciti dall'emergenza, potremo dire di essere veramente usciti dall'emergenza sanitaria, solo quando riapriranno le nostre scuole. E infatti con la ripresa delle attività economiche la riapertura delle nostre scuole è il più importante messaggio di ritorno alla normalità che dobbiamo e possiamo dare al nostro Paese e alle nostre future generazioni. Ho seguito con molta attenzione il dibattito politico e istituzionale che ha anticipato la pubblicazione di queste linee guida e per questo sono contenta che le richieste delle Regioni siano state accolte, ovvero maggiori risorse per realizzare le soluzioni organizzative e didattiche previste dal piano con l'incremento di un miliardo di finanziamenti per il mondo della scuola, l'aumento dell'organico docente ATA per rafforzare l'organico per l'emergenza che permetta di affrontare al meglio il delicato anno scolastico alle porte, l'attenzione alla riflessione scolastica puntando all'esigenza di garantire la qualità del servizio con la salvaguardia dei posti di lavoro e la sicurezza del consumo, aggiungerei io, attivazione di un tavolo di confronto Governo e Regioni sulla questione dei trasporti, sia da un punto di vista economico che di organizzazione del servizio. Anche qui l'assessore Alessandri magari ci potrà dire qualcosa in più. Su queste altre misure ci riserviamo poi di intervenire anche con i colleghi avendo presentato diversi ordini del giorno. Quello che ci preme sottolineare è l'importanza del lavoro da svolto dai dirigenti scolastici che spesso tendiamo a dimenticare. A loro infatti compete la pianificazione degli orari e delle classi per garantire il ritorno sicuro alle lezioni. E i presidi sono giustamente molto preoccupati anche perché ricadrà su di loro la responsabilità, non voglia mai il cielo, di focolai di contagio nei loro istituti. Non possiamo assolutamente lasciarli soli con questa responsabilità. Per questo ritengo che la Regione vista l'oggettiva difficoltà di garantire un efficace distanziamento sociale nei nostri alunni vista la situazione attuale dei nostri edifici scolastici, gli aiuti fornendo loro tutto il supporto operativo e logistico possibile. Abbiamo sentito dire giustamente noi non siamo agenti immobiliari, noi non possiamo andare a fare un procacciamento di quelle che sono nuove aule, nuove spazi. Ecco, cerchiamo di ragionare in un'ottica di supporto e aiuto nei loro confronti. L'accordo con gli enti locali è infatti di fondamentale importanza nell'assicurare la disponibilità di ulteriori spazi laddove fosse necessario, secondo quanto segnalato dal cruscotto informatico predisposto dal Ministero che permetterà agli enti locali di conoscere in tempo reale l'effettiva capienza delle aule e questo, unito alla conoscenza del numero effettivo di alunni per classe, li metterà in grado di effettuare eventuali interventi di edilizia leggera e di assegnare alle scuole le aule o gli ambienti necessari per raccogliere tutti gli alunni. Lo stanziamento ulteriore di un miliardo dovrebbe permettere ai presidi di ampliare se necessario l'organico e di gestire meglio la ripertenza. Permangono però ancora due forti criticità. Le aule esterne devono essere reperite dagli enti locali in prossimità delle scuole il tempo a disposizione che è davvero molto ristretto settembre e domani. Mi aspetto quindi e chiudo che il nostro assessorato la direzione regionale competenti e noi consiglieri tutti siamo anche disposti a lavorare con ancora più impegno siamo disposti a saltare le nostre ferie estive se questo dovesse servire a garantire una corretta apertura a settembre delle nostre scuole. Per questo vi invito tutti i colleghi a partecipare attivamente a questa seduta straordinaria per lavorare costruttivamente e trovare soluzioni condivise anticipandovi fin d'ora che non sarà l'ultima in materia di edilizia scolastica e misure anti-covid. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.